Dimissioni. È un coro trasversale quello che si leva dalle opposizioni paternesi, consigliari e fuori dal Consiglio, alla notizia dell'accoglimento da parte del Tribunale del Riesame di Catania del ricorso presentato dalla Procura, disponendo gli arresti domiciliari per il Sindaco Nino Naso e per gli ex assessori Pietro Cirino e Salvatore Comis, sospendendo tuttavia l'ordinanza dei domiciliari fino alla decisione definitiva e all'eventuale ricorso in Cassazione. Dal PD a Fratelli d'Italia, passando per i 5 Stelle, la richiesta è la stessa. Il Movimento 5 Stelle ha indetto una conferenza stampa per il pomeriggio di oggi, nella quale, salvo la Delfa, chiede al primo cittadino di fare un passo indietro e, in caso contrario, che siano gli assessori a rimettere il mandato. Lungi da noi da dover fare lezioni di diritto penale o diritto costituzionale in questa città, noi guardiamo l'elemento politico. L'elemento politico è che il Sindaco da tempo non ha più una maggioranza in Consiglio Comunale, la città piange sotto tutti i punti di vista, dai servizi alla gestione ordinare della pulizia, al maltraffico urbano, alla tassazione elevata. È questa notizia che purtroppo nessuno può prendere in modo positivo perché è una notizia che sconforta tutta la città, è semplicemente la goccia che fa traboccare il vaso. A questo punto l'unica soluzione che rimane, l'unica strada percorribile al nostro avviso come gruppo del Movimento 5 Stelle e Paternò è che il Sindaco rassegni le dimissioni e lasci questa città per poterla farla rinascere nuovamente. Questo è il settimo anno di amministrazione naso e nessuno, anzi tutta la città può vedere quello che è stato fatto in questi anni, per cui chiediamo se il Sindaco non dovesse accettare di dimettersi perché comunque ha la possibilità di ricorrere in Cassazione, che siano gli assessori ad abbandonare la nave perché Paternò e paternesi da sempre una popolazione di persone laboriose, artigiani e commercianti e persone per bene non meritano tutto questo. Il Ministero degli Interni non può avere approcci diversi per questioni simili, a Paternò va disposto l'accesso ispettivo in gioco, c'è la nostra democrazia. Così oggi il Presidente della Commissione Antimafia all'Assemblea regionale siciliana, Antonello Cracolici, il quale anche ieri sera intervenendo nel dibattito mafia, antimafia sociale, politica, etica della responsabilità, il caso Paternò, organizzato nell'ambito della festa dell'unità promossa dal PD del Comune Normanno, aveva detto il caso di Paternò insieme a quello di tre mestieri grida vendetta. Per molto meno i comuni sono stati sottoposti ad accesso ispettivo per verificare la presenza di eventuali infiltrazioni mafiose. È insopportabile che il Ministro degli Interni non abbia avuto la curiosità di capire cosa stava succedendo a Paternò attraverso una Commissione prefettizia. Se a Paternò la Commissione non è arrivata dobbiamo chiederne conto al Ministro dell'Interno, forse anche al Presidente del Senato. In una nota il Partito Democratico di Paternò sulla decisione del Tribunale dell'esame scrive chiediamo con forza che il Sindaco liberi la città dall'ombra della collusione mafiosa. Si dimetta, si dimettano, prosegue il PD, anche gli assessori che inspiegabilmente si sono voluti imbarcare in questa avventura. consentano l'apertura di una fase nuova e diano la parola ai cittadini, alla democrazia. Nel frattempo chiediamo l'intervento del prefetto. In una nota Fratelli d'Italia Paternò scrive Nel reato sarebbe stato commesso durante le elezioni comunali del 2022 a Paternò che videro Fratelli d'Italia esprimere un candidato opposto a Naso e rimanere poi sempre all'opposizione dell'attuale giunta. Alla luce di questa sentenza i consiglieri comunali e il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia chiedono al Sindaco Nino Naso di fare l'unica cosa etica, corretta e dignitosa che resta da fare, offrire le proprie dimissioni anche per essere lui stesso più libero nella sua personale difesa. Chiude il partito della Meloni. Bisogna rimettere nelle mani dei cittadini il mandato elettorale del 2022 che è oggetto di questa inchiesta per bloccare il discredito che sta abbattendosi su Paternò e su tutta la comunità cittadina.